Per i dipendenti dell'ASPA, mi riferisco al personale in stato di agitazione, ci sono novità positive? Sì, abbiamo appreso piacevolmente che il presidente della provincia di Crotone, che era stato investito nella problematica, ha avuto interlocuzioni immediate con il presidente Occhiuto e quindi è riuscito ad ottenere un incontro che sicuramente sarà fatto nel corso della prossima settimana, infatti ci ha comunicato formalmente da tutte le organizzazioni sindacali che entro martedì ci darà la data di questo incontro con il presidente. Ma non si ferma lo stato di agitazione? No, certamente lo stato di agitazione non si ferma, però voglio sottolineare come questa sensibilità istituzionale, ma ritengo anche personale da parte del presidente, abbia comunque fatto sì che non si andasse oltre il semplice stato di agitazione, perché i dipendenti continueranno ovviamente ad assicurare i servizi, viceversa noi, almeno come Confederazione, io rappresento la Cisle, ho avuto centinaia di telefonate dove i lavoratori già da subito volevano attivare altre modalità di proteste, quindi ritengo anche sospensione dell'attività lavorativa nel rispetto dei servizi essenziali ovviamente, però ecco questa comunicazione e questo incontro ottenuto dal presidente Sergio Ferrari correttamente ci impone di aspettare l'ingontro col presidente Occhiuto, dopodiché ci termineremo sulla base di quello che sarà l'esito dell'incontro. Quindi hanno appreso questa notizia, hanno in qualche modo capito che c'è voglia di mettere fine a una situazione critica? Sì, allora io parlo per quello che è il riscontro mio personale. In seguito a questa comunicazione ho notato grande soddisfazione da parte dei lavoratori, non perché i problemi si risolvano con una semplice emissiva, ma perché hanno apprezzato tantissimo la sensibilità del presidente nell'intervenire immediatamente e anche per la disponibilità del governatore che poi è il commissario ad acta per il piano di rientro e quindi ha in mano tutto quello che è la materia, la governance della materia sanitaria. E quindi hanno capito che qualcuno ha ascoltato il loro grido di dolore. Quindi questo, diciamo, è un primo passo. Vedremo poi concretamente cosa porterà all'incontro che si terrà, come dicevo, nel corso della prossima settimana.